Loredana Leciso parla di tutto. Dal suo nuovo rapporto con Albano Carrisi al super gossip che fa impazzire i fan del matrimonio di lui con Romina, all'amicizia con Francesca Pascale. Ma non sembra felice. Sì, sono single, ma con tanto affetto per Albano, il mio affetto per lui rimarrà sempre, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento, amici, sempre. Po, incalzata sul super gossip del matrimonio bis con Romina, taglia corto, io lo escluderei. Ma non entro nel merito. Sono un po' triste, qual è il suo umore in questo periodo? Le chiedono i conduttori del programma Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Sono un po' triste, risponde Loredana. Ed esclude di essere in cerca di un nuovo compagno. Il mio cuore l'ho messo nel freezer, è a meno 30. Per ora si dedica all'amicizia con Francesca Pascale, io credo molto nell'amicizia, sono fortunata ad avere come amica una persona che mi fa felice. Loredana Lecciso descrive la natura del suo nuovo rapporto con Albano Carrisi, suo ex compagno e padre dei suoi figli. Superati i litigi che si sono verificati anche di recente in tv, la donna si dice molto vicina all'artista Salentino. Non sotto il profilo romantico, però. Tra i due ci sarebbe un rapporto basato sull'affetto reciproco, sono single ma con tanto affetto per Albano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento, amici, sempre. Preferisce non commentare la ritrovata vicinanza tra Albano e l'ex moglie Romina Power, pur escludendo la possibilità che i due si sposino di nuovo, io lo escluderei. Ma non entro nel merito. Sono un po' triste, dice per spiegare il suo stato d'animo attuale e nega di avere un nuovo amore, il mio cuore l'ho messo nel freezer, è a meno 30. Smentisce, inoltre, la notizia del presunto trono a uomini e donne che le sarebbe stato offerto dalla redazione di Maria De Filippi, un'eventualità già negata dai diretti interessati, no, è una bufala, così come le voci che mi volevano al GF VIP. Dopo aver postato sui social una foto scattata insieme all'amica Francesca Pascale, Loredana ribadisce il loro solido legame, io credo molto nell'amicizia, sono fortunata ad avere come amica una persona che mi fa felice. Preferisce non addentarsi, invece, in ambito di preferenze politiche, sebbene ammetta di trovare piacevole il ministro Matteo Salvini, non mi dispiace, mi sembra un'ottima persona, e mi pare che abbia fatto degli accordi giusti con le persone giuste. Ciao!